Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie a tutti, buona vista, la vostra Hector Elio della Pegna Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostela in spagnolo A tutti ragazzi, allegria Ed eccoci qua, delineiamo i quarti di finale della UEFA Euro 2020 Pronti? Svizzera a Spagna Eh, questa è una grande partita, eh E domani faremo tutti i pronostici Si sfidano due squadre, una la sorpresa di questo europeo forse In grado di aver sconvitto addirittura la Francia ai calci di rigore Dopo essere arrivata solamente terza al girone dell'Italia Forse avrebbe meritato sicuramente almeno il secondo posto Che invece è aspettato al Galles Che è stato subito eliminato dalla Danimarca 4-0 Poi, Belgio-Italia Qua per noi sarà difficile contrastare Lukaku, De Broi, Nasar e compagni, i fratelli Nasar Poi abbiamo Repubblica Ceca, Danimarca Un'altra, due rivelazioni di questo europeo Forse è più la Repubblica Ceca Ma anche la Danimarca sicuramente Ed infine abbiamo Ucraina-Inghilterra L'Ucraina pure è arrivata in fine quarti Ha giocato molto bene Ma sappiamo che l'Inghilterra è più forte Dovrebbe giocare lei la partita Aggiornamento news di calciomercato da Lazio Gli USA è vicinissimo Ormai dovrebbe diventare un nuovo terzino Bianco-celeste Vai, evviva! A presto la vostra ectore di Pegnano Andiamo a mostrare il spagnolo E a tutti ragazzi Vi saluto e vi ringrazio Ma comunque forza Lazio Per tutti i belli e brutti A presto E buona la prima